La moglie prima protesta. Il bene del figlio, accetta. Il marito la porta in macchina sui viali, la lascia lì e resta daccordo di tornare a prenderla alle 2 del mattino. Alle 2, puntuale, il marito arriva e trova la moglie in preda ad un'eccitazione incontenibile, caro, è andato tutto bene, guarda, in una sola sera 505 euro. Il marito, oddio amore mio, ma è magnifico e, soprattutto, vedo che l'esperienza non ti ha traumatizzata, sono proprio contento. Ma scusa, 505 euro hai detto, ma chi è che ti ha dato 5 euro? E la donna, come chi? Tutti.